ragazzi siamo all'isola dei tesori questo era l'acquario che aveva allestito domenico di anubias dove noi abbiamo messo anche il video dell'allestimento questo è il risultato dopo circa cinque mesi vedete le piante che sono state inserite vi ricordate il tronchetto che aveva detto domenico vedete delle bellissime piante che sono state messe qua eventualmente le metteremo sotto il video per farvi esattamente capire che tipo di piante sono state messe ci sono anche dei pesci veramente vedo i siamensis vedo dei guppi se non sbaglio anche il garra possiamo andare a vedere un altro acquario che è molto bello pure ricco di piante che è questo questo bendo ci sono anche gli scalari bellissimo E' California per i nuovi, è California Marble. Bello.